Dopo aver ammirato il salotto rosa e la stanza dal letto della regina, tornati nel salone d'ingresso, entriamo nella prima porta della parete sinistra e ci ritroviamo nella stanza cinese. In questa stanza traspare chiaramente che il Marchese di Villahermosa era un appassionato collezionista di preziosi oggetti della lontana Cina. Fra i curiosi cimeli custoditi in questa stanza, si imponi subito allo sguardo del visitatore questa portampina a mano. Veniva utilizzata per portare le gestanti a spasso per il parco. Bellissimo è l'arredo anche in questa stanza, in ogni angolo si respira un non so che d'orientale. La volta è impreziosita con decorazioni in lamine d'oro e specchi. Su un antico mobile ecco il busto di Sofia Franchetti, madre e nonna degli attuali Marchesi di Orri e quindi moglie di Don Vincenzino. In origine questa stanza era la sala soggiorno del re Carlo Felice. Nel lato destro una porta permette l'accesso alla stanza del letto del sovrano.